Sindaco, questa mattina un invito alla città per presentare Cantiere, città e risultati di Mesagne 2024. Sì, è una progettualità che noi abbiamo sostenuto per concorrere ad essere capitale della cultura italiana nel 2024. Non abbiamo vinto, ma la progettualità è sicuramente stata considerata all'altezza, tant'è che oggi qui accogliamo i tecnici del Ministero che vogliono continuare a collaborare con la nostra amministrazione e con tutti i progettisti che hanno prodotto questo lavoro affinché si possa procedere con il programma che abbiamo previsto, con la progettualità che abbiamo elaborato. Quindi una buona notizia, stiamo continuando ad investire nelle politiche culturali in questa città e nel territorio.